Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Non muovere la signorina, non muovere, sta facendo un po' di lavoro. Massimo, ha detto Alessandra che bello questo è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.